Eccoci arrivati, qualche buco c'è, meno male, ce n'è pochi. Tra l'altro stretti, stretti. Sì, sei proprio uno attaccato all'altro. Facciamo un riempimento e svuotamento e poi io intanto inizio a preparare da mangiare, sennò mangiamo troppo tardi, ci vediamo tra poco. Scarico delle grigie si sta effettuando e sto facendo il carico, qua purtroppo c'è queste qui a pulsante quindi bisogna tenerlo tutto il tempo schiacciato, sennò non va. Questa è l'area, ci siamo tolti dal carico e scarico, qui c'è tutti i camper, qua ci sono gli altri e noi ci siamo messi qua giù. Ora andiamo a vedere a Jessica cosa ha preparato per cena o sta preparando. Andiamo a chiedere info, tecniche, che questo è importante. Stavo dicendo ai frollo, andiamo a chiedere a Jessica cosa sta preparando di cena. Le bistecchine ho provato a farle, siccome sono di vitello, ho provato a farle col burro. Speriamo che rimangano... Buone le bistecchine al burro. Che rimangono morbide. Qui c'è il salatino, qui c'è il civato che si fa i suoi video e qua c'è il pippotto che rompe le scatole. Questo bambino monello. Ho usato tutto il copo perché sennò mi morde. Amore. Biste e cozze in tavola. Grazie come sempre al mio amore che ci prepara le buone cinette. Insalatina, una bella baguettina, qui abbiamo super addominali. È venuta a proteggere Papi? Ma non vuoi venire con la mamma, amore? Vuoi stare qua vicino al suo papà. E stai lì allora. No? Vuoi venire? Sei sacrificato messo lì così però. Non è che sei tanto comodo. Boh. Vieni qua con Papi. Aia. Ma monello. Tu vuoi stare nell'angolino, sei messo in castigo da solo. Sta lì. Dai su, vieni. Oh, guarda come sei bello amore. È il macchino il tuo mamma. Bravo questo bambino lui. Sai che qui lo so già che tu fai un po' di problemi perché inizi a masticare tutto, a rosicchiare tutto. Eh? No? Sei serio? Cos'era hai mangiato pane e serietà? Come mai sei così serio? Sai, mi sta già frullando nel cervello di cosa combinare. La sta pensando. Quando è così silenzioso e serio perché sta già pensando a cosa fare, vero amore? Ci mangiamo il dolcino. Non sta più nella pelle. Perché la mamma gli ha detto che gli dà la mandolina e lui lo sa che gli dà la mandolina. Dai bacino. Bravo. Quella lì ti sei preso? Te la devi pelare. Però mettiti un po' più indietro amore. Se no fai un disastro. Ma anche lì fa abbastanza disastro. Cioè sul tavolo che per tanto. Buon appetito Pippo. Buon appetito. Quando uno è esaurito, è esaurito ragazzi. Ha fatto cadere o lo guardo? Ma cosa fai? Io me ne vado prima che mi cade qualcosa in testa. Voglio buttarlo per terra mi sa. Si. Ci passa sopra. Esaurito parte 3. Dicidi la colazione amore. Ce l'hai qua. Quale scegli? Dai. Quello viola? Il primo che toccate è quello viola però eh. Però ti piace più quello? Aspetta proprio non è convinto. Dai scegli quello che vuoi. Questo. O questo. Tutto e 3. Uno ne devi scegliere. Uno alla volta ne apriamo. Quello? Ok. Allora questi li metto via. Proviamo quello. Ok? Si. Ok. E anche il papagala ha già deciso la colazione che fa. Aspetta che te la preparo. Ora prepariamo colazione per tutti. Per fortuna c'è la luce del sole. Ora vi facciamo vedere il posto ragazzi. C'è la luce del sole. Quanti giorni che non vedevo il sole ragazzi. Spettacolo. Probabilmente quello che abbiamo deciso siccome non avevamo messo sotto carica i monopattini. Metto sotto carica i monopattini. Stamattina ci dedichiamo a fare un po' di cose nel camper. E poi oggi pomeriggio andiamo a visitare la città perché c'è tutta la pista ciclabile molto lunga. Così visitiamo il posto qua. Ora colazione e andiamo avanti. C'è Bernucca. Bernice. Vuoi uscire? Ora andiamo. Se mette la maglietta papà andiamo. Là c'è ancora Bobby. E' il pipotto che vuol fare la papponna. Ora te la dà papi eh. Ma non sulla mano. Ti metti qui al tuo posticino. Facciamo la colazione. Mentre ho finito di dare la pappotta al pipotto. Jessica e Christian si sono già mangiati il dolcino. Christian si era preso le ciambelline e noi abbiamo questi. Vedo che Jessica è ancora lì sano e salvo. Quindi vuol dire che sono buoni. Non sono così stopposi. Perché lei già ha fatto colazione veloce perché c'è da andare. Da mettersi sotto e pulire già i gamberi per pranzo eh. Certo. Non capisco. Non c'è mica tempo da perdere. Sei un drogato di gamberi. Quanto è che ti aspettavo? Madre mia. Allora. Qui Jessica ha finito di pulire tutti i gamberi. Due figli di gamberi. Sembravano di più sinceramente eh. Poi li pulisci. Li pulisci. Alla fine rimangono. Vabbè. Ben poco. Però. Ce n'abbiamo. Datti. C'è. Poi te. Ci soddisfiamo con due chili. Vabbè. Bernisa anche è andata a dormire. Pippo farmonello come sempre. Farmonello? Ti dico qualcosa però. Non si può sempre farti inquadrare e non dici mai niente. Io faccio inglese. Sono meno contento di tutti. Non va bene. Visto che oggi abbiamo bisogno di un esubero di corrente. Questi giorni sono stati brutti. Ne approfitto e metto fuori anche i pannelli questi per incrementare la ricarica. O la pista mi dà una mano a metterli su parabri. Raggiunto il punto massimo di ricarica di casa su quattro ruote. 2000 watt sul tetto. 200 watt lì. E 100 watt qua. Quindi sono 2320 watt. C'è anche da considerare. Ho fatto questo perché vabbè. Sti giorni è stato brutto quindi abbiamo ricaricato poco. E noi usiamo tanto induzione. Abbiamo tutto elettrico. Anche per fare degli esperimenti. E perché comunque siamo in inverno. Siamo sul nord della Spagna. Il sole è bassissimo. Quindi anche i 2000 watt che abbiamo sul tetto non è che ti rendano chissà quanto. Perché comunque il sole è basso. D'inverno puoi avere tutti i kilowatt che vuoi. Non essendo inclinati in direzione sole. Per assurdo non che mi stanno dando più quelli lì sul vetro e per terra. Che sono più o meno inclinati al sole. Ma hanno sicuramente un'irrigazione del sole molto più elevata. Ecco. Ora monto il porta carta igienica. Così ce lo togliamo di mezzo e mettiamo il rotolo al suo posto. Devo cercare due viti. Perché va messo qua. Quindi devono esserci due viti che non superano lo spessore del legno. Cristian stava suggerendo col biadesivo. Però boh. Se poi si stacca tra due giorni. Siamo tutto col biadesivo. Però non sta trovando più il biadesivo buono. È quello il problema. Provo col biadesivo. Alla peggio due viti ce li mettiamo poi in un secondo momento. Mettiamo il biadesivo. Lavoretto fatto. Messo col biadesivo. Sembra che abbia una bella tenuta. Tanto non è che deve fare chissà che sforzo. Deve tenere un rotolo di carta igienica. Vamo. Altro lavoretto che devo fare. Quando abbiamo preso il router l'altro giorno lì dove eravamo. L'ho messo provvisoriamente qua così. E lo volevo appendere qua da qualche parte. Volevo metterlo col biadesivo anche questo. Ma c'ha queste due alette. Idea. Che rendono lo spessore. Quindi o col dreaml smusso questi e poi ci posso mettere il pezzo di biadesivo. Perché non volevo forare. Anche se ho già una gruviere di buchi. Tipo questi due erano quasi perfetti. Ma poi quando ti muovi salti e caderebbe al primo tombino. Quindi penso che smusserò queste due alette e ci metto il biadesivo. Io penso di metterlo qua sopra. Anche il router appeso col biadesivo. Così ci siamo tolti un'altra cosa che girovalgava per qua. Poi ho stretto anche il manubrio del monopattino di Christian che rompeva le scatole. E ora vorrei con questo cordino fare un qualcosa di appenderlo ai pannelli. Perché vedete che già sono la mansarda gli fa ombre. Stanno già rendendo molto meno. Fare in modo che peinzolano non lo so. Devo inventarmi qualcosa. Per farli stare più bassi in modo che il sole non li disturba subito. Direi che così è meglio. Ora a parte che una nuvola è arrivata a rompere le scatole. Ma perlomeno sono più bassi. Gli ho messo un cordino legato agli specchietti. In maniera che possono rendere al meglio. Vamo. Il tempo si è messo un po' male. Il bel è andato di là e qua è arrivato il punto. Ho tolto i pannelli perché tanto non stavano più dando niente. Almeno se dovesse venire a piovere non si bagnano. L'ho già messi via. Impostazione per fare i gamberi fuori. Iniziamo. Aglio e prezzemolo e olio a fare un po' di soffrettino. Taglio i pomodorini così li faccio un po' cuocere. Poi ci buttiamo i gamberi. Ci mette anche questo poco di pomodoro che avevamo preso per farci le bruschette prima che va male. Per cui lo compriamo la facciamo subito e poi ci dimentichiamo. Jessica sta cercando di fare ordine e sistemare ma gli spazi ormai sono quelli che sono. Però si cerca di fare il possibile. Il sughetto quasi pronto. Ora ci mettiamo i gamberi. Già belli puliti. Guardate che bello. Voi non sentite il profumo ma ragazzi è uno spettacolo. Tutto intanto pomodoro ha cotto un po'. Ora versiamo in diretta i gamberi. Via. Due chili di gamberi. Qualcuno Jessica l'ha lasciato con la testa così almeno da un po' più di sapore. Però almeno ci stanno anche tutti i comodi per cuocermi bene perché l'altra volta li avevamo lasciati praticamente tutti interi. E con tutte le teste, tutte le zampe, tutte le code non ci stanno qua dentro due chili di gamberi più il sugo più tutto. Allora sto giro ha deciso di pulirli tutti e a qualcuno lasciarli che fa il sughetto alla testa che dà sapore. In gergo di cucina, con le teste, per fare il brodo di pesce si fa la bisca. Si mettono tutte le teste, gli avanzi, si fa il cuocere, si fa il brodo di pesce ed esce fuori la bisca. Poi si passa con il cinesino in modo che fai passare solo i liquidi e tutti i resti e non passano. e ha tirato fuori un brodo di pesce, la bisca. Arrivati a tavola. Ora vediamo se prende qualche canale alla tv. Se no, mangiamo in silenzio senza guardare niente. Ah, io ce la può capire sicuramente. Vabbè. In gabberi se ne sono andati e non ci sono più. Jessica li ha salutati e se li ha mangiati. Anche voi avete mangiato e non solo io. Eh ma anche. La maggioranza lo mangiare io. Eh eh. Ora caffettino. Siamo guardati un video della Kawasaki HR2R. Se non l'avete mai vista e chi è appassionato di moto andatevela a cercare. Impressionante. Mi è venuta la pelle d'oca a stare seduto in camper. Non dico altro, chi è interessato la va a cercare. Kawasaki HR2R. Kawasaki Ninja. Da paura. Il tempo continua ad essere a catinelle. Non piove ma è tutto a pecorelle. Ora tempo di resettare tutto e capiamo se prendere i benedetti monopattini e andare a visitare la città o cosa fare. Perché siamo un po' incerti. Io propongo già che siamo qua. Non dovrebbe piovere. È veloce da visitare come cittadina perché non c'è tantissimo. Quindi secondo me ne varrebbe la pena già che siamo venuti fin quassù. Anche perché diciamo che vorremmo cercare poi certi posti che già visitiamo. di non ritoccarli più. Cioè con tutto il mondo che c'è da visitare. Vederli bene una volta e basta. Poi non tornarci. Già ci siamo tornati in questi posti perché anche quest'area ce l'avano stati. Ma continuare a tornare negli stessi posti secondo me non ne vale la pena. Quindi visitiamo e poi si va. Ok. Abbiamo deciso che partiamo e andiamo a visitare il posto qua. Dopo un'ora di telefonata con mio suocero. Abbiamo deciso che andiamo a visitare la città. Abbiamo deciso che andiamo a visitare la città. Partiamo. Per sicurezza porto anche il drone non si sa mai. Mio padre cioè il suocero di Jessica. Non ci avete mai visto perché lui c'è una storia. C'è un libro anche lì. Nel canale c'è un video vecchio dove eravamo andati. Mio papà è giù in Sicilia. Il mio padre ha 70 anni. 71 quest'anno. E a 16 anni è partito dalla Sicilia con la Vespa. È andato in Germania a lavorare perché ai tempi, all'epoca c'era la fame e via dicendo. Poi è tornato giù in Sicilia per fare militare. Poi è tornato a lavorare ancora un po' in Germania. Poi si è fermato a Savona tutto il resto della vita. Ora da quando è mancato mio nonno è andato giù per stare vicino alla mamma. Ora è mancata anche la mamma. Cioè mia nonna è lì da solo con fratelli, sorelle e via dicendo ecco. E quindi ridicevo c'è sul canale un video che eravamo andati. Che eravamo giù ed eravamo andati. C'era un piccolo orticello con degli olivi a fare l'olio. Che per me è stato bellissimo perché è stata la mia prima volta che vedevo come si faceva. Dalle olive all'olio in diretta proprio. Cristian e il nonno hanno raccolto le olive. Io filmavo e facevo altro. Quindi il video sarà bruttissimo perché riprendevamo ancora col telefono. Però è il ricordo quello che serve. Ora partiamo e andiamo. Stiamo sopraggiungendo al centro di Aviles. Manca 500 metri. Ora qua svoltiamo ed entriamo già in un parco naturale. Alle prime strisce attraversiamo e scopriamo assieme la città di Aviles. Allora un po' così ad impatto non è un gran che come cittadina sinceramente. La stanno ristrutturando. Vedete qui alla mia destra. Stanno rifacendo tutto il marciapiede. C'è tutti dei cantieri. Stanno lavorando. Sentirete anche il rumore. Qui c'è una chiesa. Molto antica sembrerebbe. Chiusa. Iglesia de Santo Thomas de Canterbury. Questa è la chiesa che è chiusa. Direi che è molto vecchia. Ma neanche più di tanta alla fine. Costruita nel 1903. 1900 per arrivare al 2000 sono 120 anni. Poi è già abbastanza... In stato brutto. Vabbè vediamo ora cosa ci aspetto da visitare. Alle spalle abbiamo la chiesa. È girato all'angolo. C'è questa strada direi principale, centrale. Ora stiamo andando a vedere una fontana che è a 200 o 300 metri. Siamo arrivati. Qua alla nostra destra. Vediamo dov'è. Questo è il comune. Questa è un'altra piazza. Qua dietro c'è la fontana. Eh, manca la fontana. C'era la fontana. Dov'è? Quella lì era. Ah, quella era. Allora, la fontana era questa. Ma stanno eseguendo delle tre strutturazioni ed è chiusa. Quindi ora? Andiamo lì dietro a vedere cosa c'è. Ok. Dietro alla piazzetta dove c'è la fontana c'è un'altra chiesa. E al lato lì c'è il collegio e guarderia San Nicola del Bari. Guarderia sarebbe la scuola tribomini da un anno, due. Sì, l'asilo. Sì, guarderia, sì, sarebbe l'asilo. L'asilo nido sarebbe. Sì, il nostro asilo nido. E questa è un'altra piazzetta. No, sta cominciando a piovere. Sì, mi sa che dobbiamo iniziare a rientrare già perché... Ci sono le finestre aperte in camper. Sono sei chilometri da fare. E se inizia a piovere forte io non mi voglio bagnare. No, anche perché ci siamo appena usciti. Da un po' di influenza, quindi... Tanto che torniamo indietro e guardiamo se torniamo a guardare. Sì, se no ci rivediamo in camper. Ragazzi, questa cittadina è stata così. Niente di particolare, ma anche questo fa parte del gioco. Non tutte le cittadine si trovano belle. Non tutte le cittadine hanno grossa storia. O meglio, grosse cose da far vedere. E noi pubblichiamo tutto. Anche le cose brutte vanno messe per far vedere tutto quello che è tutto. Che poi non è brutta la cittadina perché è carina. Però c'è poco da vedere. Eh sì, ci sono cittadine dove c'hai più da vedere. Cittadine dove c'hai poco. Forse sei una cittadina magari... Piccola. Di mare che c'è il porto. Magari non è stata sviluppata. Impostata la strada di ritorno. Stiamo entrando in un parco. Non so se è lo stesso dalla parte opposta. Di prima, dell'inizio. Fatto sta che... Carino. Teoricamente questi parchi si utilizzano per fare parecchie camminate. Come vedete tutta la gente nello sfondo. Noi siamo diversi e utilizziamo i monopattini elettrici. Non è bello. Grazie. Non è bello. La signora è uscita già su YouTube. Guardate che laghetto. Sono le paperette, i cigneti. Carini. I piccioni. I gabbianelli. Tornati alla base. Sono arrivati prima perché l'ultimo passiero è in salita. Io vado lento in salita. Ma chi va piano, la stanno e va lontano. Caffettino fatto. Camper sistemato. Direzione La Corugna. Tanto qua ormai è brutto. Quel poco che c'era da vedere l'abbiamo visto. Partiamo e andiamo. Vi ricordate che parlavamo che l'anno scorso eravamo capitati in una bufera di vento? Ecco. Ci stiamo ripassando. Ci stiamo ripassando. Un pochino meglio con fronte all'anno scorso. No, l'anno scorso. Vabbè, l'altra volta. L'altra volta. Però ragazzi c'è delle raffiche di vento. Sono gli alberi che sono tutti piegati. Non so se rende l'idea degli alberi. Non ti passi nei viadotti. Sì, questi viadotti qua è terribili perché ti sposta il camper. Quindi direi che la zona della Corugna, giusto? La Galissia. La Galissia. D'inverno secondo me è proprio meglio evitarla. Un attimo che ti ritrovi come una cucaraccia con le gambe per aria. Siamo arrivati nella cittadina dove abbiamo trovato l'aria. vicino a Corugna. Bellissima. Carina. Ne? Che carina. Come impatto mi sembra molto carina. Adesso. 800 metri siamo arrivati al parcheggio. Speriamo di trovare un posto perché è abbastanza invasa la Spagna. Anche se siamo al nord dove fa freddo però tanti passano dal nord per poi scendere. Quindi non è facile trovare posto il parcheggio. Appena arriviamo vi facciamo vedere il tutto. O se no magari ve la facciamo vedere domani mattina che c'è luce. Eh perché ora c'è buio. Abbiamo posteggiato. Pippo. Abbiamo fatto uscire di nuovo già Bernice. Facciamo il set dinamico da casa. Jessica si sta pigiamando. Io ho acceso il riscaldamento anche se lei è a caldo. E' un caldo che sto morendo. Ma io c'ho freddo. Sarà che ho appena fatto l'influenza o faccio un... Eh perché mi sento caldo io. Tocca mi... Vieni qua a fare la dottoressa. Ma sai cosa... Per curarti a te. Ci vuole uno altro che è bravo. Nel termometrino. O te che sto lasciando preferisco. Lo mettiamo nel... Nel culino. No, no. Sto lasciando va bene. A me ne si misura uguali. No, ma i bimbi si devono misurare nel sederino eh. Sì, quando erano bambini c'erano quei termometri che erano grossi come... Un palo santo lì. Un citriolo erano. Devo misurare nel sederino. Diglielo Pippo. Così non va bene. Papi, devi misurare la febbre nel sederino. Quanto sei carino amore. Guarda i muscoli che c'ha nelle gambe. Che cosciotti. Sei in forma eh. Ma come hai messo? Che bello che sei messo così amore. Che muscoletti che c'ha qua sui cosciotti. Che carino caro. Vediamo se c'è la febbre. 35,8. E' alto. Cioè... 35,8. E' rotto. Non c'è niente. Non c'è. Non c'è. Se c'è la tosè. Ma perché vuole farsi curare? Signorino. No, perché non voglio andare a scuola. Vabbè prepariamo cena va. La serata tosta stasera. Con mantecchia o la tosta d'ora? Eh no, con mantecchia perché la tosta d'ora me li spappola. Ah, alla spagnola. Cenetta pronta. Tostino. Tostino. Tostone. Oh, ha i addominali che si vedono. Se l'ha già mangiato tutto. Hai fame. Ne vuoi un altro? Beh, sono le nove e mezza. Eh beh. Buon appetito. Buon appetito. Anche qui il potto. Cena qua con noi. La mela. Non amore? Mangi la mela amore. Nel frattempo ci vediamo di Max. Oltimedi, com'è fatto? A me piace come programma. I lingotti d'oro fammi vedere. Vediamo. Dopo il toast ci mangiamo il dolcino. Caco e mandarini. Un po' di frutta ci vuole. Cristian sta mangiando il mandarino. Il caco non gli piace, mi sa. Mi sa tutto. Non è più di mandarino. Sì, questi mandarini fanno un po' schifo. Vabbè, mangiamo la fruttina. Dopo la cenetta è uscito un video e stavamo rispondendo ai vostri commenti. Però a un certo punto è arrivato un'email che è uscito da tutti i dispositivi l'account di YouTube. Com'è che qualcuno ci avesse hackerato l'email. E ora stiamo cercando di capire. Ho rimpostato la password, l'ho cambiata. Abbiamo l'antivirus nel computer. Ora stiamo cercando di capire. Se no domani chiamo di nuovo un amico, quello che mi ha aiutato con il router. E lui sicuramente sa dirmi se è vero, se non è vero, cosa è successo, cosa non è successo. Vediamo già la buonanotte perché è finito questo. Si va nanna. Aver guidato questo tempo, l'acqua, il vento, ti stressa abbastanza. Poi è già tardi comunque. È mezzanotte. 23 e 32. È 11 e mezza, quindi direi che l'orario non è neanche prestissimo. Ci sta.